Musica Eccoci qui ragazzi, sono Goldrake e come ho detto ragazzi oggi siamo qui in un nuovissimo video Oggi ragazzi siamo in un nuovo episodio di Palla Elettrica, precisamente il numero 4 E oggi siamo qui con Matteo Cella che ringrazio veramente veramente tanto per essere, per aver partecipato E niente ragazzi mi raccomando lasciate un bel like, vi ricordo che se volete partecipare dovete scriverlo nei commenti e prenotarvi La lista è bella lunga, adesso non perdiamoci in chiacchiere, 3, 2, 1 e partiamo con la nostra palla elettrica Vai vai vai, subito belli cattivi, subito belli cattivi raga, cerchiamo di farlo al più presto possibile Occhio, occhio già, ci avviciniamo qui, ci avviciniamo a questo buco raga, maledetto perché sta palla raga Fa sempre i capricci, guardate lì che roba, guardate lì che roba Allora aspettate, aspettate che qua, olè, ok, no 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 no, non vuole, non vuole, non vuole, se non vuole raga, non vuole Deve trovare il suo momento ideale, ok, no no, no perché sei andata di lì, perché sei, uh piano piano piano, piano, ok No, no, fa, fa, crea, crea ansia raga la palla, eh, crea veramente tanta ansia Oh, no, è entrata riuscita? Adesso è entrata, vai ragazzi, finalmente ce l'abbiamo fatta Oggi ragazzi, dopo aver centrato il buco, c'è un parkour, attenzione perché se cado, eh, praticamente vince, eh, Matteo Adesso Matteo comunque continuerà a cercare di, eh, centrare il buco Io cerco di scappare con la nostra furia, no, uno, due, tre, olè, e ci siamo Allora, parkour, attenzione, bisogna fare la attenzione al massimo No, 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 volpe, no Devi stare calma, volpe, se no ti trolli E attenzione, è molto, molto facile raga, è molto facile ma non potevo mettere una cosa complicata Altrimenti uno, eh, non ci arriva più a queste armi Che praticamente hanno oppressore MAK2 e, eh, due carabine Allora, questa è la parte più troll, però anche una parte molto, molto carina Allora, olè, ok Ci siamo, ultima curva Olè, ci siamo ragazzi, ci siamo Vediamo Matteo, vediamo Matteo C'è Matteo? Ha fatto? No, lo vedo ancora bello trollato là Con la palla che non vuole entrare ragazzi E quando la palla fa i capricci Non ce n'è per nessuno Quindi io andrei un attimo a vedere, a controllare la situazione La situazione che sta accompagnando Matteo Allora, vediamo, vediamo, entriamo qua raga Non come l'ultima volta che ci siamo caduti lì Ok, perfetto, eccolo qua, eccolo qua Matteo, lo vediamo bello impegnato Con la palla Attenzione perché si sta mettendo in posizione per farla entrare E niente, è scappata È scappata Un bel razzo alla palla Per colpa sua che non entra mai Mamma mia, palla Via! Facciamo anche palla esplosiva adesso Mamma mia, via, via, via Se lo merita Niente ragazzi, un bel potere per Matteo Noi passiamo così Lo ripassiamo un'altra volta Adesso Così E niente, non muore Volevo ucciderlo costino E niente, è strisciato ed è morto Dunque, round Vincitore, prossimo round Secondo round Ed ora ragazzi Dobbiamo cercare di chiudere questa partita Almeno da parte mia Mentre Matteo deve cercare assolutamente Di riaprire i conti Quindi cerchiamo subito di andare Attenzione perché l'abbiamo già messa in una maniera strepitosa No, niente, niente Si è Si è andata verso sinistra Quindi niente L'avevo Avevo già visto che la palla stesse proprio entrando Ho detto Mamma mia Colpo da biliardo Invece no Magari Solo sogni Solo sogni questi Attenzione però Ora è dritta Attenzione Salta 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 Continua a saltare Perché non entra Oh Occhio che Ogni tanto Si sa mai Che entri Ole Ole No, 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 no Non vuole entrare Non vuole entrare Ok No, no, no Ho sbagliato Ho sbagliato Riportiamola verso destra Ridiamogli un colpo qua Un colpo qui Non scappare Non scappare Occhio Eh, occhio raga Occhio, occhio, occhio Occhio Ah, inoltre vi ricordo Se uno nel parkour cade Praticamente Bisogna aspettare Che l'altro L'avversario Metta la palla in buca E poi Vada a prendere Le armi Quindi La vittoria è assegnata Ovviamente All'altro All'altro Partecipante Insomma Come dire Allora Intanto Andiamo con la nostra palla Io sto cercando di farla entrare Per la seconda volta Ma sembra un po' Capriccio Oh Ho beccato Un buchino perfetto Tutto tranne la palla Raga Mamma mia Proprio troll Troll al massimo Dai dai Mamma mia Dove vuole andare Dove vuole andare Andiamogli un colpo Verso sinistra Vi ricordo ragazzi Che io Ho perso solo Contro Mauro Il gran Mauro Che mi ha battuto Per 2 a 0 Poi ho sempre vinto Quindi raga Bisogna tenere in alto Il nome della volpona Ed è la palla dentro Incredibile Mamma mia Entrato in una maniera Stranissima Attenzione perché anche Matteo Ce la sta mettendo qua E sta per farla entrare Mi sa Perché era abbastanza dritta Vediamo subito Controlliamo Con la nostra Furia Siamo qui Stavolta con la furia Blu ragazzi Molto molto carina Sto guardando se arriva Lì La palla di Matteo Si fa Centro No la vedo Un attimo Spostata dal centro Ora Ok guardate lì Guardate lì come saltella Niente raga Quando fa così Proprio Vi fa arrabbiare Vi fa Vi fa arrabbiare Perché Non entra mai Proprio Mai guarda Via 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 Uno contro uno Nel parkour Proprio questo Volevo Proprio questo Cercavo Aria di sfida Aria di sfida Con Matteo Che però dovrebbe Dovrebbe andare Proprio in un modo Troppo veloce Per superarmi Penso Io posso andare Bello tranquillo Ok vedete che Matteo è lì Con la sua Furia rossa Questa volta Perché praticamente È nella squadra rossa Allora io qua Direi Di Oh Firmo Firmo Adesso mi mette Un po' di ansia Al parkour Ok Vai 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 E ci siamo Arrivati Però bellissimo Bellissimo Perché ha fatto al centro Anche lui Adesso lo lascio venire qua Raga Non sarebbe bello ucciderlo Subito Dai vai Vieni con la macchina Vieni senza paura Matteo Tranquillo Che adesso Ci pensiamo noi Ci pensiamo noi Lo giustiziamo Ma comunque è stata una bella sfida Stavo aspettando proprio il centro Per fare quasi un uno contro uno Contro Matteo Che adesso Vediamo qua Lo puntiamo Non gli spariamo Vediamo come fa questa ultima parte Ditemi se vi è piaciuto Anche come parkour Era molto breve Raga Piccolissimo Veramente piccolo 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 Allora vediamo Ok Occhio 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 Non trollarti Noi siamo qui belli Pronti Occhio 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 Gli sto mettendo ansia Forse No spero di no Ok Ok Vai vai Bravissimo Matteo Eccolo qua Il nostro Matteo Che comunque è stato Molto molto bravo Noi ci aggiudichiamo anche questo secondo round Quindi concludiamo praticamente con un 2 a 0 Però penso che sia stato molto molto bravo ragazzi Prima infatti c'era stato un crash purtroppo suo Dove eravamo 1 a 0 per lui Quindi io direi che è praticamente un 2 a 1 per me Più che 2 a 0 Perché è stato veramente veramente bravo nel round prima E io no Quindi si merita un 2 a 1 Adesso come facciamo in ogni episodio ragazzi Immancabilmente Un colpo di carabina In mezzo agli occhi della volpe Che lo sapete che un po' mi dispiace Ma qua non riusciamo a beccarla Perché mannaggia Matteo Che fa il potere della volpe qua Ok In mezzo agli occhi In mezzo agli occhi proprio qui Un po' mi dispiace Allora bello cattivo Pum Povera volpe Povera volpe Sarà esplosato anche il microfono Dunque partita vincitore Ancora non riescono a battere la volpe Solo Mauro per ora è l'unico ad averla battuta La volpona del secolo E niente ragazzi Io spero che questo quarto episodio di Palla Elettrica vi sia piaciuta Mi raccomando lasciate un like Iscrivetevi se non vi siete ancora iscritti Attivate la campanellina E noi ragazzi ci vediamo al prossimo video Bella Ciao